L'intelligenza artificiale, che poi ha un nome così un po' sensazionale, in realtà è una cosa sempre big data, sono cose che si stanno andando avanti. Ma tu pensa Amazon, cioè il commercio elettronico, tu non vai più a un negozio a scegliere la merce, la scegli via internet, te la portano a casa. Non per tutto vale questo, ma tutti i negozi che vendono tantissime cose, alcuni non, quelli che vendono frutta e verdura sotto, certamente no, però già hanno chiuso sportelli, chioschi, i giornali hanno dimezzato le vendite, c'è tutta una fascia di esecutori di lavori, ma persino gli studi ad avvocato, la ricerca, se la fai su internet è molto più rapida e ha bisogno di meno gente, insomma dobbiamo prepararci a un mondo nuovo. E anche qui bisogna divulgare. Qui questa iniziativa del Politecnico del San Paolo si uniscono perché è da un lato c'è la divulgazione, c'è la capacità di leggere. Grazie Piero. Grazie a voi.